Assessore vice sindaco, anzi si chiude un anno difficile, se ne apre tra breve uno forse che sarà ancora più difficile soprattutto per l'emergenza economica. Possiamo fare il punto intanto di quelli che sono stati gli aiuti più emergenziali da parte dell'ente? Ma intanto chiudiamo con un primo dato che è il risultato del contributo del governo sui buoni spesa. Noi a stamani mattina abbiamo erogato 2200 buoni spesa, quindi vuol dire che il 2, qualcosa per cento degli aretini è in una condizione di disagio alimentare piuttosto importante. Non sono finiti perché entro il 31, quindi fino al 31 possono essere fatte richieste. Questa è una misura che abbiamo potuto fare grazie al sostegno del governo. Molte altre ve ne sono state con il sostegno diretto e solitario dell'amministrazione, sia rispetto al sostegno alle persone in difficoltà, ricordo non i sicuri, e poi una serie di iniziative che sono state quelle funzionali a Rezzo non molle riparte, in particolare per andare incontro ai lavoratori atipici, cioè quelli che non hanno un paracadute e che probabilmente richiederanno un impegno anche successivo. A questo si aggiunge la volontà giusta, però pesante economicamente, di azzerare tutte quelle che erano le rette delle scuole, che per noi sono significati circa 700 mila euro di introiti in meno, e la volontà di sostenere il surplus che dalla mensa deriva rispetto a delle regole nuove di sicurezza, tali da non far ricadere questi bisogni in più nelle famiglie, ma pagarli direttamente come amministrazione. Quindi diciamo che alla fine il comparto scuola deve al Covid quasi un milione di euro. Dopodiché ci sono state tutte le iniziative legate alle politiche sociali e poi quelle di ripartenza stoppate dalla seconda ondata, ma che di fatto hanno permesso in qualche modo un piccolo respiro alle persone, considerando che le politiche sociali sono sì politiche sociali, ma non possono mai dimenticarsi il punto fondamentale di caduta che è il sostegno al lavoro. La marzo del prossimo anno, se non cambierà nulla, ci sarà purtroppo il via anche ai licenziamenti ora bloccati. Tante persone potrebbero, ma il condizionale potremmo anche non usarlo, perdere il posto di lavoro. Da questo punto di vista l'ente è pronto con misure ancora più straordinarie? Arezzo non molle riparte era ed è stato pensato proprio per fare fronte a chi ha difficoltà di lavoro, cioè a chi è la vittima economica del Covid, che si dividono in due parti. Quelle che dovranno subire o che subiranno il licenziamento da parte dei datori di lavoro e sui quali ovviamente interverremo attraverso il rafforzamento delle politiche di sostegno, al pagamento degli affitti, a tutti quelli che sono i supporti economici e poi quelli che un po' ci stanno particolarmente nel cuore perché sono un po' gli invisibili, cioè coloro i quali lavorano nel proprio e che non potendo lavorare non hanno guadagnato. Quindi magari con degli accorgimenti, dei sostegni, degli aiuti possono non perderlo quel lavoro ma continuare a tenerlo in vita e quindi puoi ripartire. Quindi sono un po' questi due i punti di caduta. Avendo la certezza che oltre alle risorse proprie che non mancheranno dobbiamo essere bravi a intercettare le risorse altrui. E poi non dimentichiamoci che il recovery fund arriverà e io spero che sia gestito in maniera tale che gli enti locali possano dire la propria e anche scegliere diversamente perché i problemi che ha Arezzo non sono gli stessi che sono a Messina piuttosto che a Osta. Quindi io mi aspetto da questo punto di vista un federalismo di azione molto forte. Grazie a tutti.